Il sistema sanitario fa parte del tessuto sociale e con esso deve evolvere per rispondere alle esigenze di una popolazione sempre più anziana, più consapevole e attiva nel prendersi cura della propria salute. Perché ciò avvenga ha bisogno di strutturarsi per fornire servizi adeguati in tutte le fasi, iniziando dai consigli per una vita sana, proseguendo con la prevenzione, la diagnosi, la cura e accompagnando il paziente fino alla post ospedalizzazione con la telemedicina. Le persone di tutte le fasce d'età si affidano alle visite mediche sempre più frequentemente e richiedono maggiore assistenza tra una visita e l'altra, la possibilità di non ripetere più volte gli esami, maggiore semplicità nella comunicazione e nell'accedere alla propria storia clinica. Perché ora non è così? La maggior parte delle persone ritiene che ci siano responsabilità condivise tra individui, medici, governo e burocrazia. Un sistema di servizi e prodotti per colleghi pazienti, ospedali e medici potrebbe aiutare. Ma siamo pronti per utilizzare la Connected Care? A oggi utilizziamo i dispositivi elettronici per il controllo del peso, gli esercizi di routine, la dieta, la misurazione della pressione e dei battiti e per il monitoraggio della glicemia. Mentre ci affidiamo alla comunicazione online per prendere appuntamenti, fare domande, ricevere esiti o richiedere ricette. È evidente che la sanità del futuro passerà sempre più dal web e dalle mobile app e c'è forte aspettativa sull'aumento della qualità che questi saranno in grado di portare. I pazienti sono pronti a fare il loro passo e Philips li sta già aspettando.